ciclorama, cornici, azione lui era emigrato in america e ora è tornato per ammazzare il re in bicicletta però gira mostrati e taglia! ancora, ancora, vatti a cambiare forza, veloce questo, qui dipingono sui muri perché i muri sono di tutti ma sì, la pittura appartiene al popolo l'arizona lunga, calda, piatta e tina corre, dicono che sia vaiolo la febbre non scende milioni di uomini e donne che marciano in silenzio la pittura appartiene al popolo la pittura appartiene al popolo la pittura appartiene al popolo l'arizona lunga, calda, piatta e tina corre